poi dicevo su questa pista grande che c'era ma quando è che aspetta meali che i campioni italia a partire allora io pensai marino è meglio che partite apri il turbo e via che vada sarà quello che sarà e questo è sempre a napoli evidentemente le portava bene quella pista secondo arriva il rivale di sempre zandegu un testa a testa con zandegu era il giro del 69 al centro l'ha passato via